In Sardegna continuano ad arrivare i consistenti scorte di vaccini anti-covid. Sono state consegnate oggi 79.500 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech che si aggiungono alle 9.700 di Moderna, consegnate nella giornata di lunedì, come da programma. Ulteriori 12.800 dosi, sempre di Pfizer, arriveranno entro sabato e sono attese per la prossima settimana, salvo rimodulazioni, ulteriori 77.000 dosi più 18.000 dosi di Moderna. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione nell'isola e nella giornata di ieri sono state inoculate sul territorio regionale 14.593 dosi, delle quali 9.901 come prime somministrazioni. Complessivamente in Sardegna sono state inoculate oltre 1.110.000 dosi ed è stato immunizzato con la prima dose il 50% della popolazione. mentre il 20% dei cittadini ha completato il ciclo di vaccinazione. Oltre 810.000 i cittadini prenotati per la vaccinazione attraverso il sistema di poste italiane, di cui 430.000 per la prima dose. Dal 22 al 24 giugno, ultimo step per il piano di vaccinazione di massa nelle isole minori, concluse le operazioni alla Maddalena e a Carloforte, dove la popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione, si chiuderà con Sant'Antioco, dove l'87% della platea vaccinabile ha ricevuto la prima dose.